vedi perchè poi alla fine ti tornano bene eh l'avrebbe detto no vedi sai perchè poi alla fine ti tornano bene minghia che cola faccio la sixpool 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 perchè sixpool eh perchè sono due protos sixpool sì tanto non ha tanto non ha tu fai le nuove void dalle orlo di gate ma posso anche fare le void se c'è la sixpool faccio le void belle le void sì prima te le sei godute sì no c'era le spartastorm sì ma c'era le spartastorm ma mi hai spaventato ma c'erano i viti ci sono i marini ma c'erano veramente mi sembra però poi li hanno sfrascellati con i tank sai non ti puoi aspettare niente dai bronzi perchè poi perdono l'unità così ah ecco che vedono il tank ci vanno sopra come se fosse come se fosse veni orocolato io me lo spaventavo c'è un tank prestato di sopra io me lo spaventavo perchè non so se che cazzo di giocato a fare sinceramente fa un sixpool e poi ti vado solo per il tank eh perchè io c'ho i tank tu puoi contrattacca ah ma faccio la forja mi sa che non lo faccio la forja mi sa che non lo faccio la forja sta arrivando gino vabbè io ci provo come va magari ne faccio solo tra di z quindi vieni qua ah no non vede la pozza bravo bravo non ha scautato voglio voler fare il cannon non voglio fare ah il sogno di piloni si viene da qui si viene da qui sta facendo la forja rossa eh viene da me basta anche io lo fa raga bisogna stare attenti eh perchè sto qua è venato su da me porca trale devo andare a tenere partiti no forse mi hanno scautato perchè hanno fatto subito il pilone a doppelgate niente mi hanno scautato scautata la sixpool e però io consiglio fare un po' di minerali il primo cannone già in costruzione è il primo cannone già in costruzione ah vedi che arrivano tutti i sondini no fermatelo ma c'è la cannone no però c'è la dai uno non sta si va sul cannone ah lo sta facendo aspetta che entro dentro allora c'è una si ha fatto il cannone porco lui poi me l'ha fatto da lui devo dronare si si aspetta che drono un po' perchè nooo non è inizia a vedere guarda quanto dalle risorse sprecate guarda quanto dalle risorse sprecate c'è anche già lo zio pronto Non sondate L'importante è che non sondi Doppio gas per un Protoss Vabbè c'è i cannoni Se passano i DT di qua dovrebbero morire Però se fanno il giro Già GG Sai i nostri dati che combattono Ah Giulia Ci vengo in mezzo E' l'azio Ah Vabbè non è buono Ho sbagliato Porco lui Vabbè Vabbè Ah sapevo l'espansione No c'hanno già l'espansione ragazzi Anche io ce l'ho Anche io ce l'ho Anche io ce l'ho Tutti con l'espansione Doppio gas espansione qua Ma c'è anche lo stalker C'hanno Dovrà fare le voci Però non vedo schifezze strane Dai quanto si mette su 5 cibernetti Vabbè dai Stavo chiedendo cosa dice Se gli facciano di tutto quel gas po' Sì Sì Va rompire le scatole tutto il tempo Qua Zolker Potrebbero arrabbiarsi anche arrivare Siamo al settimo Sì Ma non funzionano Cos'hanno venincio Ci metto l'azzarco Mi vado avanti Cos'hanno venincio Eh Questo Eh 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 I canoni d'Italia ci portano dai ditti Una puttana cos'hanno venincio Ok Ok Partita Partita la sessione di 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 fare le armature qui Marauder Marine Corine Corine Lo che volete vi faccio Spero non mi chiedete i tank perchè no eh Un tank però non sarebbe stato male Eh Un tank non sarebbe Eh Chiedetelo a tonica puz Tonica puz Tonica puz Tonica puz Tonica puz Tonica puz Farò le muta Lui può Ah lui può Tonica può Lui può Poi Rapporto Un tipo Un tipo Un tipo Un tipo Tensore Quattro Tutti Un tipo Un tipo وتro tifo notti a giro ecco lì a no cosa col transfert di sonde si son presi questo partono c'è anche stalker e zili aia aia compartiti non da noi si stavano muovendo di sonde e zii vado a fare il drop ci vorrebbe adesso escono le dici che attaccano frontali rocce non ce n'è da spaccare 3 spazio trasformo nord sui padre non trovo un po ci manda una palletta vediamo se c'è la base d'oro si ce l'hanno brutannone minchia quanta roba attacco attacco manco se tengoli no c'è tutto difesa no 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 però forse qua si funziona sta roba perchè c'è il colosso no te lo provi? grande siccome vola prendersi il colosso lo fa andare no non si può vai 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 corri corri buono un colosso gliel'ho tolto però raga si mette malissimo si un po' un po' si ci vuole la qualcuno che riesca a fare la parte aerea perchè eh ora ho provato a fare le voids no ma va bene è vero perfetto solo che ai ai si smuovono si muovono si 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 sta muovendo di brusta sono incazzato bastardo arrivano di qua secondo me cento per cento parco arrivano su una donna si sono vivi mi so ho visto ma si non perderla è la roba stiamo di ingaggiare tutti si cioè piuttosto perdi la base però abilino non si può faccio le muta ce l'hai tu la roba torre eh lo sto facendo adesso gas le spene ti faccio questo ah sono sotto anche dai proviamo dalle io non ce la faccio proviamo dalle tu prendi il colosso appena lo vedi troppa roba ci arriva è da qua sono i stalker i miei avevamo quelli li avevo già visti arrivo Vieni dalle c'è una nuova guerra va dietro datemi una mano andiamo dentro adesso vediamo che c'ha c'è un cazzo andiamo dentro va a vincere all in raga no cos'è sono anche lì sotto chi è che è lì sotto guarda stalker stalker colossi ce ne hanno ancora attenzione il colosso porca miseria non so se lì stalker diamo una mano dalle insieme 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 marco dio vai tu dalle ci puoi riuscire eh merda mi chiude una sandwich cos'hanno eh tolker ma non ce la fai si ce l'ho fatta però continua 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 è la nostra unica speranza tu da eh sto gli facendo ce la fai fa qualcosa eh no guarda non ce la faccio guarda fa di più c'è torre scappa ci venisse cavolo di soli no no stai qua facciamo ok siamo qui nulla facciamo dire soli arrivando a dietro di nuovo e ora sono troppi cos'hanno stalker tanti stalker c'è una delle idra c'è le marauder marauder c'è un po' c'è anche qua la base ce l'hanno sono tante balli non posso riesco a fare qualche danno le nostre forze sono soltate si dai che gliela cancello sta qua tantissimo cazzo va belli belli li ho cancellato alla base li ho cancellato ok grazie 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 guardate guardate un casino è un casino no perchè però se sono insati devo dire che ho eguagliato l'esercito di pavano ma le mani tengo a passata tratta di non perdere, tengo vai torre è come blinker ma questo qui perchè fa un monostorz che ha persi minchè warpa, cos'è warpa ripetizione, minchè direi che possiamo entrare di lì no? no? e ha guardato un po' di roba però si si potrebbe provare proviamo grande dalle con le voide andiamo, andiamo, andiamo dritti guardandossi alla roba così in un'antimarine antimarine beh vai eba tardo tol colosso eh ma qua c'è una pro c'è guagli i vikings sui colossi che cazzo ti blinkhi è buono però quel blinkante che ti faccio? un blink? un blink? finita raga arrivo forse tengo da solo eh però il colosso no ma tieni da solo e dai sto gg e dai sto gg sto finlando già ormai sto finlando ormai no ho sbagliato no 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 ci volevano i tt per vincere no e dai che sto finlando e dai che sto finlando e dai che sto finlando scusate stormi di mutteris così arrivano sì eh gol eh gol e è gol VALTIBRA! Eeeeeee, colla! Cos'è quel prisma? Cos'è? Vuole fare... Eeeh, DT! Vuole fare DT giù! Ah, così... Non c'è niente da rilevare! No, che faccia i Re Re Berincio, no? TORNO! CORNO! 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 Che beeeeeeeed! CORNO!